Revocare l'ordinanza di istituzione della zona traffico limitato nel centro storico di Sassari è quanto chiede Forza Italia al sindaco Nicola Sanna. La ZTL va riformulata partendo dalle richieste e dai suggerimenti di residenti ed operatori commerciali, premi utenti del cuore della città. Sul punto il consigliere comunale Emanuele Alivesi ha presentato un'interpellanza. Un ultimo atto richiesto al primo cittadino? Non solo. Il forte disagio cresciuto negli anni tra residenti ed operatori dell'area blu a seguito del fallimento e soprattutto per l'abbandono del progetto del centro storico sassarese, dice Alivesi, segna oggi la necessità di procedere con la revisione delle condizioni, degli accessi, degli orari e della gestione del progetto della ZTL, completamente abbandonato dall'amministrazione. Un centro storico sempre più degradato. Non c'è però solo la revoca della zona traffico limitato. Riteniamo opportuno procedere alla costituzione di un progetto ZTL 2.0, prosegue Alivesi, con l'apertura di un vero e proprio libro bianco per la città antica. Nel quale residenti, commercianti e cittadini tutti possano in piena condivisione formulare i loro consigli e le loro proposte.